Nel 2010 l'osservatorio sulla TAV presieduto dal commissario Mario Virano ha ricevuto dalla regione Piemonte 120.000 euro, nel 2011 altri 240.000. Questo è tutto ciò che è noto sui contributi pubblici all'organismo che dal 2006 ha il compito di vigilare sulla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione. Non si sa quali siano gli altri finanziamenti, non si sa come la somma sia ripartita nei vari capitoli di spesa e quanto siano stati pagati i numerosi esperti tecnici che negli anni hanno contribuito a dare il loro parere professionale sulla fattibilità dell'opera. In poche parole non c'è quella trasparenza della cosa pubblica che oggi è diventata fondamentale nei rapporti tra il cittadino e le amministrazioni. O meglio non c'è ancora perché secondo il decreto sviluppo del governo Monti a partire dal 1 gennaio 2013 diventa obbligatorio pubblicare online tutte queste informazioni. Per fare chiarezza sui numeri mancanti e per spronare l'osservatorio a mettere quanto prima tutti i numeri sul web, il capogruppo di SELL in Consiglio regionale Monica Cerutti ha presentato un esposto alla Corte dei Conti perché siano controllati flussi di denaro erogati a favore dell'osservatorio e la regolarità degli incarichi attribuiti e dei relativi compensi. Crediamo che nel momento in cui anche a livello nazionale a partire dal prossimo anno qualsiasi organismo pubblico debba avere pubblicato in rete ciò che spende e come lo spende, a questo punto l'osservatorio deve essere il primo a dare queste garanzie. L'invito a raggiungere un maggiore livello di trasparenza segue di pochi giorni le critiche al progetto della Corte dei Conti francese. Secondo i giudici d'Oltraalpe i costi di realizzazione sono aumentati troppo rispetto ai progetti preliminari, da 12 a 26 miliardi di euro, mentre il flusso delle merci sulla tratta è diminuito. La questione TAV è anche in cima ai pensieri della Corte dei Conti italiana. Il presidente Luigi Giampaolino ha dichiarato di augurarsi che il prima possibile vengano verificati i costi della linea ad alta velocità. La politica per il momento non sembra turbata da queste prese di posizione. Il premier francese Jean-Marc Cairo ha ribadito le intenzioni politiche del governo, gli impegni internazionali e in particolare gli accordi con l'Italia.